Il gossip al grande fratello Vip non smette mai di far parlare. Nelle scorse ore, l'ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, ha rivelato, durante un colloquio con Antonella Fiordelisi, di avere avuto una relazione con una donna famosa, senza però fare nomi. La notizia è giunta all'orecchio dell'ex, Chiara Rabi, che si è scagliata contro Donadei su Instagram. Donadei ha spiegato di essere stato con una «famosa di Casoria», ma gli affezionati del reality show hanno pensato che si trattasse di Roberta, una ragazza che corteggiò Davide, quando era seduto sul trono di Uomini e Donne. Tuttavia, la Rabi ha fatto sapere di conoscere benissimo di chi stava parlando il suo ex, e di aver litigato con lei in passato. «Forse lo so invece, è che sono piena, considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato, e io sono passata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente». Così ha scritto Chiara Rabi su Instagram, lasciando intendere di conoscere perfettamente la donna a cui si riferisce Donadei. Inoltre, ha aggiunto che tale conquista del suo ex, non è certo famosa, ma ha ricevuto visibilità grazie a lei. La Rabi ha poi sostenuto, che Davide stia cercando di far saltare fuori cose che lo riguardano, per avere più spazio al GF VIP, e guadagnarsi qualche clip nel corso della diretta. «Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta, e in qualche modo lo abbia anche tutelato, lui continua a sminuirsi. Continua veramente a calcare la mano. Così ha detto Chiara». In conclusione, l'ex di Donadei ha espresso il proprio disappunto nei confronti dell'ex tronista, accusandolo di voler ottenere visibilità a tutti i costi. Voi cosa ne pensate? Ha ragione Chiara Rabi? O siete dalla parte di Davide Donadei? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie a tutti.